Combattere il randagismo è una mission importante per la nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Le nostre sezioni in tutta Italia ogni giorno salvano dalla strada tanti animali in difficoltà, come i sei cuccioli di Carlentini in Sicilia. Questi piccolini vivevano randaggi di fronte a un supermercato. La loro mamma ogni giorno attraversava più volte la strada in cerca di un po' di cibo per farli sopravvivere. Non potevamo certo lasciarli lì, li abbiamo recuperati, fatti curare e messi in salvo. Ora queste meraviglie, due maschietti e quattro fermiucce, cercano casa. Questo cagnolino stava sempre di fronte a un ospedale. Tutti pensavano che il suo proprietario fosse ricoverato lì, invece era stato abbandonato. Dopo giorni e giorni, passati senza un po' di cibo e una carezza, si è messo a vagare per la strada finché, stanco e depelito, non è stato investito. Lo abbiamo caricato di corsi in auto in condizioni terribili e portato dal veterinario che lo ha operato d'urgenza alla milza e tenuto per molte notti sotto flebo. Dopo tanta sofferenza è finalmente fuori pericolo. Infine ci sono i cagnolini di Enna. Sei cuccioli sono stati trovati su una strada trafficata della provincia di Enna. All'angolo di un brutto incrocio rischiavano di essere investiti. Li abbiamo subito recuperati e fatti visitare. Per fortuna erano in buona salute, così con tanto impegno li abbiamo fatti crescere e appena possibile li faremo adottare. Questi sono solo alcuni dei tanti animali che salviamo ogni giorno. Se volete aiutare queste creature in difese, inviate subito un sms solidale al numero 45589 ripeto 45589 oppure chiamate da rete fissa. Per voi può essere un piccolo gesto, ma per loro la vita.